Sei morti in una sola giornata, quella appena trascorsa è stata una delle domeniche peggiori per l'Irpinia da quando è cominciata la pandemia. A 16 a 6 in 24 ore l'ultimo ieri sera, la vittima è un 84enne di Moschiano ricoverata nel plesso ospedaliero Landolfi di Solufra. Nelle ore precedenti erano morte altre 5 persone, due donne di Avellino e tre persone di Montemarano, Monteforte e Lauro. Quest'ultima è deceduta presso l'ospedale di Ariano. Intanto sia un Moscati che al Frangipane si registra un incremento dei ricoveri per coronavirus. Nelle aree Covid dell'azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 85 pazienti, 7 sono in terapia intensiva. Nell'ospedale del Tricolle sono ricoverati 42 pazienti positivi, 4 in terapia intensiva. E in una settimana si è riempito il reparto di medicina riconvertito in area Covid. C'è il rischio che nei prossimi giorni si debba riconvertire anche qualche altro reparto o dirottare i pazienti al Moscati. Ma alla città ospedaliera le cose non stanno meglio. Ieri nelle aree Covid erano ricoverati 77 pazienti, oggi sono 85. A Contrada Moretta il reparto di emergenza è sotto pressione da giorni, perché è aumentato il numero delle persone costrette a recarsi in ospedale, mentre a diminuire l'età dei pazienti che arrivano in pronto soccorso. Ieri il bollettino dell'Asa ha riportato 125 nuovi casi in Irpini, accertati dall'analisi di 1.598 tamponi e il tasso di positività ha raggiunto il 7,8%. Restano Avellino e Ariani, comuni dove si registra una maggiore diffusione del virus, 13 nuovi casi per il capoluogo e la cittadina del Tricolle, 11 positivi a Solufra. Il virus torna a colpire Mirabella, dove in una sola giornata si registrano 6 positivi. Altri 5 positivi a Calitri, dove però c'è la bella notizia di 12 persone che si sono negativizzate. Un guarito anche ad Andretta.